Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Oggi io e Daniele prepareremo insieme un piatto marocchino, la tagine daniello e verdure. Per preparare la tagine serve la pentola in terracotta che è questa. Mentre per la ricetta servono 500 g di carne daniello, 2 patate, 2 carote, noi le abbiamo già tagliate a pezzetti, dello zenzero, 2 cipolle, uno spicchio d'aglio, del sale e poi una serie di spezie, del peperoncino, della paprika dolce, del cumino, della curcuma, una bustina di zafferano e poi ci servirà dell'acqua, dell'olio e del prezzemolo. Cominciamo! Ci siamo spostati sul fuoco perché per prima cosa bisogna mettere la pentola per la tagine e aggiungere dell'olio. Abbiamo fatto scaldare l'olio nella tagine, adesso aggiungiamo l'agnello. E adesso facciamo rosolare la carne per circa 5 minuti, su tutti i lati. adesso che la carne è rosolata la togliamo dalla tagine e andiamo ad aggiungere le cipolle e l'aglio. A questo punto andiamo di nuovo ad aggiungere la carne. Ora da parte dobbiamo preparare il mix di spezie insieme a acqua calda e olio. La quantità è di un cucchiaino per ognuna, quindi un cucchiaino di curcuma, un cucchiaino di paprika dolce, la bustina di zafferano, un cucchiaino di sale, un cucchiaino di cumino e soltanto mezzo cucchiaino di peperoncino. Possiamo procedere. Adesso andiamo ad aggiungere le spezie con l'acqua e l'olio. Dopodiché andremo ad abbassare la fiamma, lo copriremo e lo lasceremo cuocere per circa mezz'ora. E' passata mezz'ora, adesso possiamo aggiungere le verdure, dopodiché grattugeremo lo zenzero. Intanto aggiungiamo le verdure. Aggiungiamo lo zenzero. Aggiungiamo anche il prezzemolo che abbiamo legato in un mazzetto. Dopodiché copriamo e lasciamo cuocere per un'altra mezz'oretta. E' passata mezz'ora da quando abbiamo aggiunto le verdure e adesso la nostra tagine è pronta. Non ci resta che preparare del couscous e servirla. Bene, anche per oggi è tutto. Speriamo che questa ricetta vi sia piaciuta. Se così è, non dimenticatevi di cliccare mi piace e condividere il video con tutti i vostri amici. Noi nel frattempo vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Grazie a tutti. Ci siamo spostati dal... dove? Abbiamo fatto scaldare l'olio nella tagine e adesso aggiungiamo... ma che faccia è? Scusa, no. Ciao Jiu Jizzers! Oggi condividerò con voi la mia routine del mattino nei weekend. Vi mostrerò tutti i prodotti che utilizzo e come li applico. Dopo un bello sbadiglio sono pronta per lavarmi i denti, utilizzando lo spazzolino elettrico della Brown e il dentifricio della antica arboristeria Oxy Bianco.